Sono Ciocchiere Gianpietro Capoglupe Fini San Giovanni Impototo, anche quest'anno si rinnova la tradizione di brusare la vecia che sia benegurante per il 2014, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con brusa la vecia, questo è un termine popolare che a San Giovanni Impototo viene in questo caso ricordato attraverso gli alpini di San Giovanni. Noi siamo i nonni del lupo, questa sera abbiamo cantato qui per festeggiare, per rimanere in allegria e per portare certamente gioia, gioia e non solo gioia ma anche un augurio che è quello di un felice e sereno 2014. Grazie a tutti. Grazie a tutti.